Arrivano le prime ammissioni per la vicenda che ha portato agli arresti dell'ormai ex sindaco di Morciano di Romagna Claudio Battazza. In particolare parliamo di quanto dichiarato durante l'interrogatorio in procura come persona informata dei fatti sostenuto da Romeo Godoli, amministratore della società rinnovamento Ghigi, che agli inquirenti ha raccontato come il meccanismo è stato liato per far andare avanti la pratica senza intoppi. Ci si riferisce alle presunte false sponsorizzazioni che l'azienda ha firmato per un importo di quasi 400 mila euro in tre anni. La società si sarebbe prestata per non avere intoppi e dopo 15 anni per poter terminare la costruzione di un centro commerciale. Il comune invece aveva potuto aggirare il vincolo di spesa dato dal patto di stabilità. Secondo gli investigatori della finanza sono proprio le condotte persuasive a sottoscrivere il falso contratto di sponsorizzazione a configurare il reato per battazza mentre il privato, cioè la società Ghigi, avrebbe fatto con il miraggio di sconti e vantaggi nelle pratiche edilizie in corso. Le accuse quindi per l'ex sindaco rimangono quelle di indebita induzione a dare e promettere utilità.